Gli inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina, gli ACE inibitori, dilatano le arterie e diminuiscono la pressione arteriosa. Il principale effetto indesiderato è la tosse. In questo caso possiamo proporvi un farmaco di un'altra categoria che non abbia questo effetto collaterale. Questo farmaco può provocare anche vertigini, abbassamento di pressione o riduzione della funzione renale. Tutto ciò è attentamente controllato fin dall'inizio del trattamento. E mi dica, si è fatto un'idea del motivo per cui ha avuto questo infarto?